Forza, forza, ci sei? Sì, 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 ci sono, ci sono, vai pure. Ok, ci siamo, ok. Vieni. Di qua, seguimi. Eccomi, eccomi. Ah, ok. Vieni. Ci siamo quasi, eh. Ok. Ma dove dobbiamo andare precisamente? Dobbiamo andare a King Street. A quanto pare c'è un treno. Grazie a una monopla che ho trovato, forse riusciremo ad andare oltre. Ok. Mi fido di te. Ma questo? Questo è il posto dove è successo il delitto. Oh, madonna. Vieni, di qua. Ci siamo quasi, eh. Dobbiamo andare giù di qui. In sopra quelle scale mobili? Sì. Però, mi raccomando, devi correre. Perché? Sono maledetti. Sono maledetti. Perché? Che è successo? Vai. Ci sono le creature edificanti. Devi scappare! Devi scappare! Forza, andiamo! Forza, forza, forza! Forza, forza! Forza, l'aggettivo! Forza, l'aggettivo! Forza! Forza! Ma che devo succedermi? Questo lago si stia qui morendo Vieni Non c'è tempo, non c'è tempo Ok, ok, stai calmo però Ok, di qua, vieni Questo dovrebbe essere il treno Sì, è l'unico che non ho visitato Dove essere questo Oh no Eeeeh Ciao Sono felice che tu sia venuta qui Oh tu Oh Oh Che l'ho occupata Vieni l'ho occupata Io devo fare quel lavoro Metti quella in manopola Mettila, mettila Sono riuscito a spostare una carrozza Forza, di qui Spada dell'obbedienza Potrebbe essere Milton Oh no Ciao Quanto tempo che non ci vediamo Una morita un incASE Molto Ti distrutto Che Oh Vieni via, vieni via, vieni via A quarta ci siccederà ahahahah, io non ho bisogno di andare, non vi vincere! non scapperete a lungo, prima o poi vi prenderò e quando vi prenderò sarà la vostra figlia senti, io torno un attimo nel mio appartamento, tu resta qui! aspettami! ok! sei un lorido insetto! ahahahah, io ti posso vedere anche nel tuo appartamento! no, no, no! Ah, ma l'orologio che... Oh no, cazzo! 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 Cazzo! Oh no, cazzo!